È stata una giornata dei volti diversi per due dei tre civita vecchiesi impegnati alle Olimpiadi di Parigi. Partiamo dalla palla a nuoto perché è arrivata una vittoria, ma stavolta da due punti per Marco Del Lungo e il 7 Bello. Gli azzurri hanno ottenuto il terzo successo in tre gare, sconfiggendo per 11 a 9 il Montenegro ai rigori dopo l'8 a 8 dei tempi regolamentari. Nelle prime fasi l'Italia pecca di precisione, soprattutto in attacco, e questo consente agli slavi di andare in vantaggio. La sfida è davvero equilibrata e nessuno va mai avanti per due reti. Del Lungo regala un paio di parate importanti nel secondo tempo, prima di lasciare spazio successivamente al collega Nicosia, in una situazione tipica di coach campagna, sin dai tempi di Tempesti Del Lungo. La scelta si rivela felice perché la calottina rossa del Savona para a due rigori, anche se il 7 Bello può aggrapparsi al rammarico per non aver sfruttato diverse occasioni per vincerla nei tempi regolamentari. Del Lungo e i compagni continuano a restare al comando del torneo, ma a pari punti con la Grecia con la quale, ormai quasi sicuramente, si giocheranno il primato lunedì. Passando alla ginnastica artistica è andata meno bene a Manila Esposito, che non è riuscita ad entrare nella top 10 della finale dell'allround individuale. L'asso della Nazionale Italiana e della SG ha terminato la propria quadrupla prova in quattordicesima posizione con il punteggio di 53.599. Non si è vista in pedana la migliore versione di Esposito, probabilmente stanca per la miriade di impegni delle ultime settimane, con questa gara giunta a sole 48 ore dallo storico argento nella Kermess a squadre. Eppure la Civita Vecchiese ha fatto vedere delle buone cose a volteggio, dove ha mostrato un buonissimo salto e da trave, dove ha avuto un'esibizione davvero interessante e che l'aveva accattapultata in alto in classifica. Meno bene le cose sono andate a parallele, dove Esposito ha cominciato con una caduta e chiuso con un atterraggio non perfetto. Caduta che si è vista anche a corpo libero, uno degli attrezzi di punta della classe 2006, che dopo un salto ha toccato il terreno con le ginocchia. Ovviamente la medaglia rappresentava un sogno, ma c'era speranza di vedere la campionessa almeno tra le prime dieci, anche perché aveva terminato quinta le qualificazioni. Ma ancora non è finita. Lunedì ci saranno gli ultimi due appuntamenti nelle gare di specialità, a trave e corpo libero, per chiudere un'Olimpiade che è già straordinaria oggi.